Le raccolte civiche di Fano sono conservate all'interno del monumentale palazzo malatestiano, voluto da Pandolfo III Malatesti ed edificato tra il 1413 e il 1421. Si accede alla struttura attraversando l'antico arco Borgia Cibo ed oltrepassando l'Androne. Prima di proseguire lungo lo scalone l'occhio è rapito dalla bellezza della prospicente corte malatestiana. Il percorso di visita si articola attraverso 16 ambienti ed è suddiviso in quattro aree principali, la sezione archeologica, la sezione delle ceramiche e quella della numismatica, la sala del caminetto, la sala grande, i due piccoli ambienti della sala del lavabo e la cosiddetta sala Morganti, queste ultime destinate alla Pinacoteca. Il museo documenta quindi un vasto arco cronologico che va dai reperti preistorici e protostorici della zona di Fano fino al periodo romano di Fanon Fortune, dalla pregevole collezioni di pitture di scuola locale veneta, bolognese e romana del 1400, 1500 e 1600 fino all'arte contemporanea. Il nucleo originario delle collezioni risale al 1700 ed è costituito da reperti archeologici provenienti da ritrovamenti avvenuti nella città e nel territorio, dalle opere prevenenti dalle chiese del territorio, acquisite in seguito alla soppressione di corporazioni ed enti ecclesiastici, alle quali si aggiunsero nel tempo lasciti e donazioni. Il museo civico e la Pinacoteca furono istituiti nel 1898 e allestiti nell'ala nord-orientale del palazzo malatestiano. Il museo documenta gli insediamenti preistorici del territorio fanese e la civiltà della colonia e della città romana. La Pinacoteca, oltre alla raccolta delle scenografie di Giacomo Torelli, alle collezioni di monete della zecca fanese, alle medaglie malatestiane di Matteo dei Pasti e alle ceramiche dell'antica farmacia di Sant'Elena degli inizi del 1800, presenta un'importante raccolta di quadri provenienti dagli edifici delle congregazioni religiose soppresse nel 1867, a cui si aggiunsero nel tempo numerosi dipinti. La sezione moderna, costituita da ritratti, paesaggi, quadri con soggetti di genere del 1800 e 1900, è allestita al piano mezzano, mentre al piano nobile, nella sala grande e nella sala del caminetto, sono raccolti dipinti a tempera e a olio che vanno dal 1300 al 1600, di scuola veneta, umbra, marchigiana, bolognese e napoletana, con opere del Domenichino, di Guidoreni, Simone Cantarini, Guercino, Guerrieri e Mattia Preti. In due ambienti, al piano mezzano, sono allestite poi le collezioni di ceramiche che vanno dal 1400 al 1800, molte delle quali decorati con la tipica settecentesca rosa di Pesaro e la collezione di numismatica. Allestita al piano terra, la sezione archeologica ospita reperti di varie epoche, rinvenute a Fano e nel suo territorio. Sotto il portico quattrocentesco è stato anche ricomposto il cosiddetto mosaico della Pantera, databile alla metà del 100 d.C. All'interno sono presenti vetrine che custodiscono reperti preistorici, piceni e greci. Altre vetrine accolgono reperti di epoca romana di varia e non sempre documentata provenienza. Particolarmente degni di nota sono il famoso cippo graccano che testimonia l'avvenuta applicazione della Lex Sempronia del 103 a.C., anch'esso del territorio fanese. Una statuetta di giovinetto con toga pretexta, bulla e calzari. La grande statua mutila raffigurante l'imperatore Claudio, alcune teste in pietra e in marmo, fra le quali una splendida testa muliebre con pettinatura all'ottavia della fine del 100 a.C., frammenti architettonici e scultori vari, anfore, tessere di pavimenti in cotto e l'emblema centrale del cosiddetto mosaico del Nettuno con l'immagine del Dio ritto su quadriga tirata da Ippocampi della fine del 100 primi del 200 d.C.